I'm Noemi, I'm from Italy. Come ti senti di partecipare in questo evento, la giornata mondiale di gioventù? Mi sento piena di gioia e immensamente grata per questa possibilità, perché sono giornate veramente magnifiche, di incontro con l'altro, di incontro con se stessi e di incontro con Dio soprattutto. Perfetto. E anche cosa ti ha motivato a partecipare a questo evento? Il desiderio di mettermi in gioco, di incontrare altre persone che come me condividono la fede cristiana, al di là delle differenze, e quindi appunto il desiderio di scoprire una chiesa più grande, di incontrare l'altro nella sua diversità. Perfetto. E in che modo questo incontro di giovani provenienti da tutto il mondo ti aiuta a rafforzare la tua fede e anche la tua spiritualità? Beh, mi ha colpito molto il fatto che nonostante le diversità linguistiche e culturali riuscissimo a comunicare così a fondo, quindi ho sentito qualcosa di grande che ci lega. E per me questo qualcosa che ci unisce è Dio. E mi tornava alla mente quello che dice San Paolo nella sua lettera, che non c'è più greco, giudeo, schiavo, libero, ma tutti siamo uno in Cristo. e questo è proprio quello che mi porterò a casa da questa GMG. Perfetto, grazie per la tua risposta. Ti auguro un incontro bellissimo con Dio, con la gente, con gli altri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.